...84 Emma Green, chiamata al metro di 188, primo salto per lei, per proseguire le qualificate per la finale ha preso P. De Menzì, Crencia, la seconda del salto, quinto, la finale ha iniziato il luogo con 6.54, 6.53 per la prima più, 6.53 per la seconda, 6.54, un fu più grande, due basi, la Ugliesi. E adesso, San Antonio, Emma Green, ancora la sua collezionale, la USA, ha passato la trattata, bene, allora, ma...